Il rischio di perdere i 40 milioni di euro previsti nel decreto Sblocca Italia, stanziati per l'allungamento della pista e il potenziamento della struttura, diventa concreto senza la concessione per l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. C'è attesa per avere novità dai ministeri, perché senza concessione non si potrà nemmeno celebrare il matrimonio tra Salerno-Costa d'Amalfi e Capodichino. Il tempo infatti è tiranno e entro il 31 dicembre di quest'anno i lavori devono essere cantierati, pena la revoca del finanziamento. La Regione sta tentando un pressing sul Governo. Da Roma tutto tace, anche se a quanto pare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il suo nulla osta. Ora tutto è nelle mani del Ministero dell'Economia. Purtroppo se non arriva la concessione non si potrà indire neanche la gara d'appalto.